Nei bidoni della spazzatura c'era tutta la documentazione in nero pronta per essere distrutta. Ricevute fiscali, preventivi, schede dei pazienti, estratti conto e ricevute bancomat. Con l'operazione Non Solo Yoga, le fiamme gialle hanno scoperto un'evasione di oltre 2 milioni di euro ad opera di un agriturismo e di un centro ayurvedico di Senigallia, costituito come associazione senza scopo di lucro e riconducibili a due imprenditori cingalesi. L'indagine è stata avviata dai finanzieri del Comando Provinciale di Ancona grazie ad un attento monitoraggio e agli esposti di alcuni clienti che lamentavano il pagamento di somme di denaro per la partecipazione a vari corsi, senza rilascio delle certificazioni fiscali. Dagli accertamenti della Polizia Tributaria sono state individuate 750 posizioni riferite a clienti che si sono sottoposti a consulti e partecipato ad attività tenute dal maestro. Elementi che hanno fatto emergere cospicui guadagni che per cinque anni gli indagati avrebbero omesso di comunicare al fisco. Inoltre il personale del servizio ispettivo dell'Asur Area Vasta 2 ha notato che all'interno dello shop del centro ayurvedico c'erano farine, olio e succhi di frutta scaduti da tempo. Sono stati rinvenuti anche preparativi ayurvedici e bevande depurative di vario genere senza alcune indicazioni degli ingredienti. I prodotti sono stati subito sequestrati così come i locali destinati alla loro produzione e conservazione. Ma non solo, perché dai computer degli indagati è stato scoperto che all'interno dell'associazione venivano eseguite, senza alcuna autorizzazione e laurea specialistica, alcune attività mediche che potevano essere rischiose per la salute in presenza di importanti patologie nel soggetto frutture. In totale, al termine delle indagini, sono state denunciate tre persone, due per esercizio abusivo della professione medica ed evasione fiscale, reati puniti rispettivamente con la reclusione fino a tre e cinque anni e la terza persona invece è stata denunciata per concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica. La Guardia di Finanza continuerà ad operare assicurando un presidio di sicurezza e di legalità in questo particolare momento di emergenza economico-sanitaria.